ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono lori frost e oggi ragazzi siamo su clash royale oggi andremo a fare delle battaglie online e andremo ad aprire il bowl della corona sto aspettando nello shop una leggendaria avevo in mente di comprarmi il tronco e la prossima sarà il gran cavaliere la nuova leggendaria che uscirà in questo gioco e hanno detto che è molto forte e io la voglio comprare ho trovato anche il boscaiolo ieri nel bowl della corona e ce ne ho due adesso lo posso migliorare anche e lo sto provando questo deck che si basa su due tecniche spiritali di fuoco e il domatore e i barbari scelti con la gang oppure anche con le streghe elettiche e così via andiamo a fare subito le nostre tre partite scusate se a giugno non sono usciti molti video che ho avuto gli esami di terza media e quindi ero molto occupato e però adesso dai riproviamo e ne partiremo tanti sul canale silenziamo subito sto qua che è un gran figlio guarda dai nervi allora sono pronto col domatore se avevamo magari la torre inferno e il nostro veniva non ci aveva fatto niente però questo gioco ci vuole male non si gioca non ci sono perfetto lo lascio di nuovo lì vabbè non devo amare non devo amare dire al bambina ventana barbari scelti preparo la zap vabbè dai non mi ne muore subito lì aspettiamo che spiego il motore ok dai stiamo ancora occupando perfetto troppo forte la tena prepariamo adesso darò la riscolti so che lui metterà ah cipignoli c'è uno schifo è uno schifo è uno schifo si lui è sicuro che quella di sinistra è una ditta giù è una ditta giù è una ditta giù non è una ditta giù no 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 tanto è arrivato ora e lo abbiamo anche recuperato che fai non mi ha avuto giù eh che fai non mi ha avuto giù che fai non mi ha avuto giù è quella che fai chiusc keto invece vedi il cielo comunque è diverso d' visto che voce quindi che vincolo no L'ho vista l'amore pure. E volevi, volevi che non l'avessi vista, voleva tantissimo. Una partita epica questa, bella bella. Voleva tantissimo, scaliamo un pochettino arriviamo anche a 65 mila di ore, tantissimo. Allora, sto d'acqua è troppo forte. Volevo migliorarmi i barbari scelte a 10. La gang non so perché, non la userò molto nei prossimi video. Con il rodeco userò quello con la cintura. Però finché c'è la torre inferno, rodeco. Attacchiamo così si proteggono le ore. E' così deve rifare. Mettete un pochettino. Qua, qua, ve lo. Ok, molto. Noi abbiamo, ci siamo difesi benissimo e abbiamo fatto anche molto l'aria. Contando che questo è un livello 9, quindi non è che sia chissà quanto forte, però non bisogna mai sottovalutare. Allora, direi sempre di metto la gang, così vi spreca la scarica. No, vabbè. E stavolta morirò nel senso. Eh sì, l'ho presa stavolta di brutta. Dovevo mettere la torre inferno subito. Lo sapevo, è anche troppo forte. Lo sapevo, è anche troppo forte. Sì, vabbè, ma dove la trovo? Sì, vabbè, ma dove la trovo? Sì, domani, vabbè, cos'è? Oh, cazzo, ti faccio fare altre cose. Vabbè, dove ho trovato tutto sto legir? Ok, ragazzi, direi che possiamo fare l'ultima partita o le ultime due, però io penso che... Dai, facciamo una battaglia due contro due, così almeno non perdiamo né trofei e guadagliamo anche le corone. Il deck del nostro compagno è molto bello. C'è anche lì i barbari scelti. Ah, quattro barbari scelti. Ma ora c'è il cavolo che ho... Ah, l'uno 11 ce l'ho! Ah, l'uno 11 ce l'ho! Ah, l'abbiamo fatta un'altra mano. Sì, ci devi difendere qua. Sì! Mi senti? Sei scemo, però. Guarda lì, gli danni con la Valkyrie. Che cavolo, però. Anche te ci fai perdere mentre registriamo? Non è mai abbandonato, vero? Non è mai abbandonato. Merda. Non è mai abbandonato, ecco. Non è mai abbandonato. Non è mai abbandonato. Ma che farò questo deck di formato. Ah, l'abbiamo recuperato. E' mai abbandonato a copriare le macchie. No, non mi sembra che tu. Ma che fai oggi? E che fai oggi? Per dirci. Vabbè, però c'è crea con un combo Valkyrie. Sto male. Sgaro, sgaro. Sgaro, sgaro. Che fai.. Sgaro, sgaro. Sgaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' una bella partita. Una pura non l'abbiamo fatta. Ok, ragazzi, direi che questo video può finire qui. Lasciate tanti like, commentate per nuovi episodi. Se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Bella raga.